Siamo arrivati al secondo video sui pronomi diretti italiani. Com'è andata con il primo video? È stato abbastanza chiaro? Fammelo sapere nei commenti qui sotto, perché nel video di oggi parliamo della posizione di questi pronomi. Nel primo video abbiamo capito quali sono e come si usano, oggi vediamo la loro posizione, così saprai usarli perfettamente alla fine di questo video. Quindi cominciamo! Come ho anticipato nel primo video, i pronomi oggetto diretti generalmente, e sottolineo generalmente sono posizionati prima del verbo principale. Compro i fagioli e li mangio. In questo caso fagioli è plurale maschile e quindi uso il pronome li e li è posizionato prima del verbo principale. Oppure vedo Monia e la saluto, io saluto lei, ma il pronome diretto va prima del verbo. Ci sono dei casi in cui il pronome oggetto diretto va alla fine del verbo, attaccato, proprio attaccato, alla fine del verbo. Ci sono tre casi principali in cui avviene questo. Il primo caso è con i verbi all'infinito. Per esempio In questo caso abbiamo il verbo guardare all'infinito, che sarebbe come dire Questo è un bel film. Ho deciso di guardare il film. Sostituiamo il film con il pronome diretto, ma abbiamo un verbo all'infinito, guardare. Quindi è obbligatorio mettere il pronome alla fine del verbo all'infinito. Ho deciso di guardarlo. Quindi il verbo perde l'ultima lettera dell'infinito e aggiungiamo il pronome diretto lo, guardarlo. Il primo caso in cui il pronome va dopo il verbo è quando il verbo è all'infinito. Questo succede anche in un altro caso, cioè quando il verbo è all'imperativo affermativo. Imperativo affermativo. Vediamo un esempio. In questo caso abbiamo il verbo all'imperativo, mangia. Lo sostituisce il gelato e si attacca alla fine del verbo. Questo gelato è molto buono, mangialo. Oppure Francesco fa dei video molto belli. Guardali! Il pronome li sostituisce i video, ma il verbo è all'imperativo affermativo. Guarda i video! E con il pronome diventa guardali. Di nuovo il pronome diretto è alla fine del verbo. Con l'imperativo negativo il pronome può andare prima o dopo il verbo. Per esempio questa è la mia cena, non la mangiare. In questo caso il pronome si trova prima del verbo. Oppure possiamo dire questa è la mia cena, non mangiarla. In questo caso il pronome si trova alla fine del verbo all'infinito. Sono due opzioni identiche in italiano quando si tratta dell'imperativo negativo. Il terzo caso in cui il pronome diretto va obbligatoriamente alla fine del verbo è quando il verbo è al gerundio. Ricordi il gerundio? Vediamo un esempio. Puoi imparare l'italiano studiandolo ogni giorno. In questo caso il pronome lo sostituisce l'italiano, ma il verbo è al gerundio e quindi siamo obbligati a mettere il pronome alla fine del verbo. Puoi imparare l'italiano studiandolo ogni giorno. Ok? Quindi fino a questo punto abbiamo detto che generalmente il pronome diretto è posizionato prima del verbo. Compro un gelato e lo mangio. Ci sono tre casi principali in cui il pronome diretto va alla fine del verbo. Quando il verbo è all'infinito, quando il verbo è all'imperativo e quando il verbo è al gerundio. C'è un altro caso che è molto molto importante e quindi desidero veramente che ti sia chiaro. Ed è il caso dei verbi modali. Ricordi i verbi modali? I verbi modali sono volere, dovere, potere e anche sapere. Quando sapere indica un'abilità. Per esempio, io so sciare, io so scrivere, io so parlare italiano. Questi quattro verbi modali sono sempre seguiti da un verbo all'infinito. Io devo scrivere, io devo andare in banca, io posso guidare la macchina e così via. Con i verbi modali abbiamo due scelte. Il pronome può essere posizionato prima di tutti i verbi o alla fine del verbo all'infinito. Vediamo un esempio. Anzi, vediamo più esempi. C'è la torta in frigo ma non la voglio mangiare. In questo caso la sostituisce la torta ed è posizionato prima di tutti i verbi. Non la voglio mangiare. Ma visto che abbiamo un verbo all'infinito, io posso anche mettere il pronome alla fine del verbo. Quindi c'è la torta in frigo ma non voglio mangiarla. Ho la macchina ma non la posso guidare. È come dire ho la macchina ma non posso guidarla. Anche in questo caso abbiamo un verbo modale, potere, e un verbo all'infinito. E il pronome può essere prima di tutti i verbi o alla fine del verbo all'infinito. È indifferente in italiano, ma è possibile fare questo solo quando c'è un verbo modale. Mi raccomando! L'italiano è importante, lo devi studiare. Oppure l'italiano è importante, devi studiarlo. Abbiamo il verbo modale, dovere, e un verbo all'infinito, studiare. Devi studiarlo o lo devi studiare. Ultimissimo esempio con il verbo sapere. Ti ricordo che il verbo sapere è considerato un verbo modale quando indica un'abilità, come in questo esempio. Ho studiato italiano e lo so parlare. Io so parlare l'italiano, sono capace di parlarlo. In questo caso il pronome va all'inizio, prima di tutti i verbi, ma essendo un verbo modale in questo caso posso posizionare il pronome diretto alla fine del verbo all'infinito. Ho studiato italiano e so parlarlo. È uguale. A te la scelta. Ok, quindi queste erano le regole per posizionare il pronome diretto all'interno di una frase. Spero di essere stato abbastanza chiaro. È un argomento molto tecnico, quindi questa è grammatica pura, ma i pronomi sono molto importanti in italiano per parlare italiano in modo naturale. Quindi ti consiglio di riguardare più volte questo video e anche il video precedente per capire come si usano e dove si mettono questi pronomi. Adesso puoi fare degli esempi. Ormai lo sai che alla fine di un video tocca a te esercitarti per solidificare l'uso dei pronomi o della regola di cui parlo nel video. Leggo i tuoi commenti e ci vediamo molto presto al prossimo video! Ciao!